Ancora Italia ha più risorse per innovare e tutelare le produzioni agricole nazionali. Queste le richieste alla politica lanciate dagli agricoltori della CIA che oggi a Roma hanno aperto la loro settima assemblea. Ce ne parla Alessandro Guarasci. È sempre più virtuosa l'agricoltura italiana. Le emissioni pesano per appena il 6% sul totale di quelle prodotte nell'ambiente. Crescono poi le culture green e le energie rinnovabili. I problemi però non mancano, dice il presidente della CIA Dino Scanavino. Le emergenze sono tanto quelle climatiche che hanno condizionato la produzione dell'ultima annata agraria. Noi abbiamo bisogno di strutturare un mercato e delle relazioni di filiera che diano più risorse agli agricoltori che oggi guadagnano troppo poco. L'agricoltura italiana ha un valore di 30 miliardi di euro ma è necessario che diventi sempre più efficiente se deve reggere la concorrenza dei paesi emergenti. Il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina. Bisogna ancora lavorare su semplificazione, innovazione, tutela del reddito e ovviamente protezione e promozione delle qualità agroalimentarie. Polonia le nuove...